Ciao ragazzi sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio darvi 5 consigli che velocizzeranno il vostro modo di scattare e vi faranno tenere il meglio dalla vostra fotocamera. Come fotocamera dimostrativa utilizzerò questa Canon 5D Mark III, quindi i menu saranno specifici per questo modello. Si tratta però di funzionalità che si trovano anche su fotocamere Nikon, Sony e così via, quindi le potrete tranquillamente adattare indipendentemente dalla fotocamera in vostro possesso. Al numero 1 ci sono le modalità custom sulla 5D Mark III, ho tre modalità custom che posso personalizzare. Sono molto comodi ad esempio per chi fa sia foto che video perché i settaggi per i video sono molto specifici e diversi da quelli che si utilizzano solitamente per fare le foto. Una volta impostato il tempo di scatto, l'apertura, gli ISO, il bilanciamento del bianco, profilo colore e così via, mi basterà andare dentro il menu in modalità di scatto personalizzato, poi andare su registra impostazioni e scegliere la modalità di scatto personalizzata C1, C2, C3 dove andare a registrare le mie impostazioni. A questo punto se sono ad esempio in modalità manuale e sto facendo delle foto e voglio passare a fare un video, mi basterà ruotare la ghiera su C1 per avere già la macchina impostata con tutti i settaggi corretti. Questa funzionalità inoltre è molto comoda in tutte quelle situazioni in cui dovete passare ad esempio dallo scattare dall'interno all'esterno. Potete registrare su C1 le vostre impostazioni preferite per gli scatti in interna, su C2 quelle per gli scatti in esterna e poi semplicemente ruotare la ghiera quando passate da una situazione di scatto all'altra senza anche qui dover perdere tempo a reimpostare completamente i vostri parametri. Al numero 2 ci sono i menu personalizzati con i menu che diventano sempre più complicati e in alcuni casi come quelli di Sony sono un vero e proprio incubo di voci. La possibilità di crearsi un menu personalizzato con le funzionalità che si usano di più vi farà risparmiare un sacco di tempo. Ad esempio io sulla mia Canon 5D Mark III e anche sulla 6D ho impostato tra le mie voci preferite ad esempio il bilanciamento del bianco, l'attivazione o disattivazione del beep della messa a fuoco, la formatazione delle schede di memoria e così via insomma le funzioni che a me sono comode e vi assicuro che se anche voi vi personalizzerete il vostro menu con le voci che utilizzate maggiormente risparmierete un sacco di tempo. Al numero 3 c'è la possibilità di rimappare i pulsanti che vi consentirà di cucirvi addosso la fotocamera in base al vostro modo di lavorare. Ad esempio io sulla 5D Mark III ho rimappato il pulsante qua sotto che è quello per l'anteprima della profondità di campo per passare da AF one shot ad i servo o per chi non ha Canon da AF singolo ad AF continuo e lo utilizzo ad esempio quando ho la sposa che mi cammina lungo la navata e con questo pulsante passo appunto al fuoco continuo per avere la garanzia degli scatti a fuoco. Altra cosa che ho impostato sulle mie Canon è il pulsante set in combinazione con la ghiera qua in alto per cambiare gli ISO. Insomma ogni fotocamera vi consente di rimappare i pulsanti in una certa maniera e sono sicuro che riuscirete a trovare la combinazione perfetta per velocizzare il vostro modo di lavorare. Al punto numero 4 vi consiglio di personalizzare il pulsante con la lentina di ingrandimento per andare a fare uno zoom al 100% sul punto di messa a fuoco dopo aver fatto lo scatto. Io lo utilizzo molto quando sono a fare una sessione di scatto con i miei clienti perché dopo aver fatto la foto premendo il pulsante zoom vado subito a verificare che la foto che ho fatto sia a fuoco senza dover stare a perdere tempo a selezionare la foto andare a fare un ingrandimento per arrivare al 100% insomma così è molto molto più veloce. E sulla falsa riga di questo al punto numero 5 vi consiglio di attivare l'avviso per la sovraesposizione. In questo modo quando andate a riguardare le vostre immagini appena scattate avrete subito a colpo d'occhio l'idea se avete bruciato delle zone che non si possono recuperare quindi dovete andare a correggere l'esposizione della vostra foto. Bene con questo è tutto per il video di oggi se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e condividetelo con i vostri amici iscrivetevi al canale attivate la campanella se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 10 con un nuovo video qua sul canale.